Attenzione! Allora siamo qui a Venezia il quarto giorno di occupazione Occupy Venice, siamo qui dall'11.11, abbiamo accolto l'invito fatto al mondo partito da Occupy Wall Street, siamo simbolicamente davanti alla Banca d'Italia per dire che è venuto davvero il momento di dire basta alla dittatura della finanza e di dire basta a questa commistione tra politica, economia, politici e finanza. Gli interessi nostri sono quelli del 99%, come stanno dicendo migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo e non sono quelli del 1% delle banche e della finanza. Siamo qui, staremo qui, avremo delle iniziative in questi giorni, brevemente due cose, oggi pomeriggio, cioè lunedì alle 2.30 avremo Michael Hart e René Gavri, sono rispettivamente un filosofo ed un artista, sono entrambi statunitensi e ci parleranno proprio del movimento di Occupy Wall Street. domani pomeriggio avremo invece un attivista cinese che si chiama Wer Kaixi, che è uno dei leader storici della protesta di Piazza Tiena al Mè. Siamo qui a San Salvador a Venezia, venite a trovarci, vi aspettiamo. Grazie.